Grazie. 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 Vai. Voi. 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 Ok, ferma con le mani, guarda là, guarda là, vai Sieni di piano, piano, lenta, 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 ok, piano con le mani, guarda il centro, vieni, vieni, ok, vai, tre, Ok, vai, chiusa le regini nel cambio, grita, 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 bravo, Ferma con le mani, vieni, vai, ok, giù le mani, vai, giù le mani e vai, Non tirare quando stocchi, non tirare quando stocchi, non tirare quando stocchi, non tirare quando stocchi, giù le mani, Oh, 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 oh del Montalco di Deo. Un tegno per questo binomio è di 69. Grazie.